E buon giorno, come state? Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti, ben ritrovati qui su Cristal Radio, Good Morning Milano 7.08 in questo istante ed eccoci qua a iniziare insieme una giornata, un martedì uggioso, bagnato, completamente umido, eh sì, questo è il nostro martedì che inizia in questo istante anzi questi sono solo i preliminari e dopo poi ci diamo su tutti insieme, sì, ricominciamo la nostra giornata in maniera così corale, di gruppo così da poter sfondare la porta che ci divide dalla giornata e entrare nella nostra quotidianità. Anzi, a proposito di entrare, grazie, grazie perché tutte le mattine ci fate entrare nella vostra invece routine mattutina, ci spalancate le porte di casa vostra, ci fate entrare e noi con calma ma anche con un po' di ruenza entriamo nelle nostre vite, con un po' di musica, di notizia e tutto quello che ruota intorno alla nostra città. Eh sì, 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 adesso vi dicevo, no, questi sono sui preliminari, dopo cominciamo a dare i numeri tutti insieme, anzi i numeri importanti sono 331-78-53555, il numero di Whatsapp a cui potete scriverci, potete scriverci raccontandoci quello che volete, noi siamo qui ad ascoltare, noi siamo qui a parlare e a sussurrarvi nelle orecchie di un buon giorno qui su Crystal Radio con Good Morning Milano alle 7-10 minuti quando inizia la musica che vi tira giù dal letto e vi fa iniziare al massimo questa giornata. Pazzamusica! Marco Mengoni, Pazzamusica insieme a Elodie, oggi martedì 27 febbraio, 7-12 minuti, eccoci qua, come sempre, a Good Morning Milano. Vi ricordo il numero a cui potete scriverci, 331-78-53555, già arrivato il Whatsapp del buongiorno di Alberto, io non potrei vivere senza il Whatsapp, se un giorno non arriva io mi preoccupo e mando i Marines a cercare di trovare Alberto. Per fortuna è arrivato anche oggi, buongiorno allo zio Fabio, a tutti i cristallini, mentre mi preparo per uscire da casa sotto la pioggia leggo di tempeste solari che prossimamente provocheranno disturbi radioelettrici e sì, speriamo di non avere disturbi alla radio, questa è la mia preoccupazione. Ebbene sì, ci sono delle tempeste solari in arrivo, potrebbe andare un po' a quel paese, satelliti, tempeste magnetiche, poi vediamo, non ci sono mai state di questa entità, sembrerebbe, quindi bisogna capire quanto la nostra atmosfera, ionosfera e tutte le sfere e basta, scusate, tutte le protezioni che ci sono intorno alla canota terrestre potranno o meno schermarci da queste tempeste solari. Ebbene sì, oggi è, dicevamo, il 27 di febbraio e compie 80 anni, chi, 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 chi? Lui. Eh sì, no, non sto parlando di Furia Cavallo del West, non è lui che compie 80 anni, ma Mal, Mal compie 80 anni. Adesso chiedo alla regia, alla mia producer Viola e a Chiara, che c'è in regia, di alzarsi un attimo, farsi vedere, voglio vedere la loro faccia, quando dico che Mal, cantante di Furia Cavallo del West, compie 80 anni. Vediamo com'è che è la reazione. Niente, non si sono neanche alzati. Punti di domanda stampati sulla faccia, giusto? Non avete idea di che cosa sto parlando? No, niente, niente. Una si addormentate, vi dico solo questo. No, niente, non ho idea di che cosa sto parlando. Pensate, compie appunto 80 anni, Mal, cantante di questa sigla famosissima di questo telefilm, che era Furia Cavallo del West, ma anche di tanto, tanto altro. Pensate che dal 62, che è in attività, ha fatto 41 album, ha pubblicato, di cui 23 in studio e 18 raccolte. So che chiunque ci sta ascoltando da casa e in questo momento ha qualche annetto, diciamo, dalla mia età in su, sa sicuramente chi è il caro Mal. Però, però, per chi è più giovane, fatevi una ricerchina. Può sempre essere utile tornare un attimo sui passi. Tra parentesi, è interessante vedere come proprio la Gen Z sta riscoprendo alcune cose. Notizia di ieri, ad esempio, che Nina Zilli ha ringraziato tutta la Gen Z perché ha riscoperto ed è rientrata in classifica, nella famosa classifica del top 50 della FMI, della Fimi, per sempre, che è una canzone del 2012 che appunto è stata portata a Sanremo e che sta ritornando in auge grazie proprio alla Gen Z che l'ascolta su Spotify, la utilizza per i propri reel o stories e quindi, vedete, come ha anche ritorno. Pensate che mai, nel 2012, sono un bel po' di anni fa oramai, non è una canzone di ieri. Gente che è nata poco, che era poco più che infante in quel momento e che invece adesso riscopre quella canzone. E quindi, ma chissà che magari, grazie al compleanno degli 80 anni di Mal, si venga ancora di nuovo a cantare tutti insieme Furia, Cavallo del West, chissà. Boh, intanto io do la linea a luce verde per sapere come va il traffico, eh. Luce verde! Sade con Smooth Operator, che ha tutta una storia. Anche questa canzone ritorna, ritorna a scoperti da una nuova generazione perché sapete che è un grande fan di questa canzone? Carlos Sainz, sì, il pilota di Formula 1, sì, lo proprio lui, che tutte le volte che finisce le prove, fa un buon tempo o così, viene festeggiato dal box, dal muretto, come si dice in questi casi, e non sono gli amici del muretto, quelli lì che seguivamo quando eravamo negli anni 90 in televisione, no. Dal muretto, dal paddock, gli viene mandata in cuffia questa canzone per festeggiare il suo buon risultato. E allora, ormai, c'è anche se cercate su YouTube, Smooth Operator Carlos Sainz, è proprio la compilation delle comunicazioni radio tra il burretto Ferrari e il pilota con tutte, appunto, le questioni legate, appunto, ai suoi successi. Carlo Sainz, che, appunto, adesso, so capito bene, continuerà, no, aspetta, perché non si capisce bene, perché c'è un giallo intorno a cosa succederà, perché adesso ci sarà anche Hamilton, che arriva in Ferrari insieme a lui, e quindi lui rimane, appunto, l'altro pilota del Ferrari insieme ad Hamilton, ma chi sarà il pilota numero uno? Voi che dite? Chi segue la Formula 1 cosa dice? Intanto, al 3317853555 ci scrivono Buongiorno da quella di Bergamo, ah, buongiorno Bergamo, Auguria Mall, auguria Mall, da ragazzina andavo ai concerti delle piccole band metal emergenti con Pensiero d'amore a palla nella mia automobile. Beh, quindi non troppo da ragazzina, se vedi l'automobile. Ero più ribelle dei ribelli, effettivamente, eh sì, effettivamente, insomma, la ribellione passa anche da questo. Beh, Mall è un tipo rock, se ci pensate, cioè, io l'ho rivisto recentemente in alcune apparizioni, veramente, io ci metto la firma ad arrivare a 80 anni così, eh. Ragazzi, questi qua che c'hanno, cioè, oh, Mall, allora, Mall, Mick Jagger, eh, Kate Richards, abbiamo detto, no? Tutta sta gente che ha 80 anni, ma avete presente? Cioè, che vita hanno fatto? E adesso, ma Mall magari non ha fatto la sua vita di Kate Richards o di Mick Jagger. Ma comunque, oh, è gente che ha fatto 40, quanti album mi hanno detto che ha fatto, ma 40 passa album, 30 album, quanti ne hai fatti? 41 album, capito? Voi quanti ne avete fatti? Io ne ho fatti due, uno era quello delle figurine panini dei calciatori e uno, pensate, l'unico che ho finito in vita mia. Questa è vita vera vissuta dal direttore. Allora, l'unico album in vita mia che ho finito è stato quello degli Snorkins, Snorkis, non so se ve li ricordate, erano dei tipelli che vivevano sott'acqua, avevano in testa un tubo come se fosse un boccaglio, una cosa del genere. Ecco, è l'unico album in vita mia che ho finito di figurine, perché all'epoca facevano un crattore animato, una cosa del genere. Credo che sia dimenticato praticamente da chiunque, e non credo che ci sia neanche da qualche parte, non so se potete rivederlo da qualche parte, dubito, dubito fortemente che ci siano puntate degli Snorkins in giro. Non mi ricordo neanche se si chiamano Snorkins o Snorkins, dopo controllo e guardo. Andiamo avanti con la musica nel frattempo. Dai, lei è Angelina Mango con La Noia. È un paio di giorni che non la sentiamo la mattina, quindi non dobbiamo perdere le buone abitudini, perché soprattutto a noi, Angelina Mango non ci annoia mai. E quindi, via Angelina, vai, è tutta tua! Elton John e Duolipa, Cold Heart. Il vostro cuore invece è freddo, il nostro no. È caldo e batte forte per voi, perché voi siete la linfa vitale della nostra trasmissione. Va bene, abbiamo finito? Ok, andiamo avanti. Allora, leggiamo dal giornale. Anzi, da Milano Today. Si parla del terzo mandato. No, non è il terzo segreto di Fatima o di Satira. No, è il terzo mandato che così si è paventato. A me piace quella roba che si paventa qualcosa. Poi gli interessati dicono, no, ma a me non interessa. Poi intanto non si sa come si è andato fuori questo discorso. Terzo mandato per gli amministratori locali. E sì, sembrerebbe che, insomma, alcuni amministratori locali... Cioè, è strana sta cosa, perché da una parte ci dicono che nessuno vuole fare il sindaco, dall'altra si lamentano di fare solo due mandati. Vabbè. C'è questa idea, o meglio, c'è questo rumor, c'è questo brusio di fondo che dice che, ma insomma, forse due mandati sono troppo poco, forse bisognerebbe pensare al terzo mandato per gli amministratori locali. In alcuni paesi europei è già così. Beh, anche Sala si è espresso. E allora da Milano Today leggiamo. Sala sul terzo mandato dice lo scontro nel PD è sgradevole. Eh sì, il sindaco di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione a margine di un evento organizzato dal PD. E cosa ha detto? Lo scontro nel PD per il terzo mandato, più che pericoloso, è sgradevole. A Baudino ha detto Sala che nei giorni scorsi, appunto, il primo cittadino si era lasciato andare a un'aspra critica nei confronti del limite a due mandati per gli amministratori locali, anche se in quel caso aveva annunciato che non si ricandiderebbe comunque. Aveva detto vedo che molti sindaci hanno vissuto negativamente il non sentirsi appoggiati dal proprio partito. Io non sono così protagonista della questione, ma non tanto perché a me non interessi, quanto perché finché non c'è una solida possibilità e non l'ho mai vista crescere, perché sono molti i partiti che hanno preso le distanze, mi sembra quindi un po' inutile parlarne. Allora, è un giro, c'è un triplo carpiato per dire, in poche parole. Allora, io non è che non sono interessato, ma visto che non mi sembra che possa succedere, è inutile stare qui a parlarne. Però non è che non sono interessato, anche se comunque non userei questa possibilità. Così sembra dire. Il sindaco di Milano aveva appunto parlato della questione del terzo mandato con un discorso generico. dice, perché l'Italia deve essere sempre così diversa da altri paesi e non seguire gli usi e i dettami che vediamo appunto negli altri paesi? Non lo so, Sala. Sta di fatto che, allora, o ti interessa o non ti interessa, però sindaco ci dica, ci dica. C'è questa cosa del ma no, non vorrei, ma io non c'entro, però non dico niente perché tanto non è una possibilità reale. Allora, cioè, di la tua, anche se non ti interessa, di mi piacerebbe, mi piacerebbe. Sì, sarebbe giusto che i sindaci fassano tre mandati. No, non è giusto che i sindaci facciano tre mandati. Diciamolo. Io vi dico la verità. Io credo questo, che invece il due mandati sia fondamentale mantenerlo, ma forse quello che si può pensare è perché uno quando fa il sindaco per due mandati poi deve per forza uscire dall'amministrazione? Vada a fare il vice sindaco, vada a fare l'assessore, vada a fare ancora qualcosa per la città e magari poi si può riproporre dopo qualche anno ancora. Quello sarebbe una cosa interessante perché se noi costruiamo le squadre, quindi un sindaco, un vice sindaco e degli assessori, perché no? Magari dopo due anni le ricambiamo e quindi chi ha fatto l'assessore va a fare il sindaco, chi ha fatto il sindaco torna a fare l'assessore e magari gli elettori a quel punto si affezionano all'idea politica che ha quel gruppo di persone e non come sempre quel singolo che invece vogliamo come sempre al potere. Perché a noi piace tanto questa idea dell'uomo solo al comando. Tra parentesi, anche lì, piccola poemica, ma se per una volta fosse anche una donna magari, eh? Fred De Palma, il cielo non ci vuole. Anche lui, direttamente da Sanremo 2024, siamo ancora a febbraio, si può mettere, nel senso, adesso come le canzoni di Natale, dopo la Beffana vanno via, io direi che fino al primo marzo che è venerdì le possiamo mettere, dopo forse, non lo so, che dite voi. 331-78-53555, quando scade il bonus a Sanremo? Fino a quando lo possiamo mettere le canzoni di Sanremo? Fino a quando ci piacciono? Forse questa è la risposta corretta, no? Babbè, andiamo avanti con le notizie. Repubblica Milano, sicurezza in bici, torna l'obbligo di sensori sui camion contro l'angolo cieco. Ebbene sì, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Milano. Ribaltata la sentenza del TAR che aveva fermato i dispositivi per le sicurezze di ciclisti e pedoni. I giudici dicono che il Comune aveva il potere di farlo e quindi i morsi ricomincia tutto da capo. Allora, io quello che non capisco ogni volta, so che sono polemico, stamattina sono polemico, eh, stamattina mi pigliate così, mi spiace. Basta, ok. Allora, se vi decidete di fare una cosa, io quello che non capisco, del sistema legislativo italiano, ma che me l'hanno cercato di spiegare più di una volta, ma faccio veramente fatica a capirlo, è come si fa a fare una legge e poi questa legge viene subito impugnata da qualcuno, va a finire in tribunale, un tribunale dice una cosa, in questo caso il TAR aveva detto che non andava bene, quindi bisognava togliere questo obbligo per i camion, perché il Comune non aveva il potere di farlo, si va al Consiglio di Stato, che io dico, ma se c'è già il TAR, quindi c'è una cosa in più ancora, un altro livello di giustizia, che dice invece no, il TAR ha sbagliato, il Comune poteva farlo. Allora, io quello che dico, ma non si possono fare delle leggi per cui tu già prima di fare la legge chiami il TAR, chiami il Consiglio di Stato, dice allora ragazzi ho questa idea, mi dite secondo voi cosa si può fare, non si può fare, perché dovrebbe essere già abbastanza semplice capirlo in realtà, perché se faccio il politico dovrei saperlo, ma visto che molto probabilmente le leggi sono così complicate, che neanche chi le fa poi riesce a metterle in atto, allora diciamo, fate uno sportello per i comuni, per i sindaci, è così che dici, allora vogliamo fare questa legge, si può fare, non si può fare, se avete tanto lavoro, ma benissimo, ma tanto cosa succede, accelerate comunque i tempi, perché poi sennò si viene fermati, adesso c'erano alcuni camionisti che avevano già comprato questi diavolo di sensori, altri che non, e poi posso dire una cosa, ma ha senso fare una legge che obbliga a mettere i sensori ai camionisti che vengono a Milano, quando nel resto d'Italia non è obbligatoria questa cosa? Non avrebbe più senso fare una legge a livello nazionale che dica che tutti i camion che vengono venduti in Italia hanno bisogno dell'obbligo di questi sensori? Non mi sembra che abbiamo fatto le barricate quando ci hanno detto che erano da mettere le cinture di sicurezza obbligatorie, io mi ricordo che c'erano auto senza le cinture di sicurezza, esistevano negli anni 70, negli anni 80, poi hanno detto no, c'è l'obbligo e quindi tutti i produttori hanno prodotto le macchine con le cinture di sicurezza, chiunque produce auto con l'airbag adesso, ok? Perché non possiamo dire che bisogna per forza fare i camion con la cosa angolo cieco e chi non ce li ha deve metterselo su in tutta Italia, però perché questo è il concetto, ci sta che i camionisti si incazzino e dicono, scusate, mi è scappata, che dicano a me, ma scusate, io per girare a Milano devo mettere quella roba lì, ma se vado a Bologna no, se vado a Torino no, se vado a Venezia no, ma a Venezia non ci andate con il camion, ma se vado in altre città no, ma scusate, hanno ragione anche loro e quindi dico, perché si arriva sempre a fare delle regole, delle leggi senza mettersi tutti insieme al tavolo? questo non capisco, al tavolo si litiga? Sì, sono fatti apposta i tavoli per litigare e poi trovare una soluzione, trovare un punto di caduta, dal 2025 obblighiamo a mettere quei sensori, così la gente aveva tempo per metterli, ad esempio, era solo un esempio, così, però io faccio solo la radio, quindi fate Vobis. San Giovanni, San Giovanni con Finiscimi, alle 7 e 46 minuti, qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, 331-7853-555 è il nostro numero di Whatsapp, se volete anche voi fare la vostra polemica quotidiana, siamo qui pronti anche noi, ma non c'è, non di sole polemiche si vive, anche di ritorni, ritorni in città, chi tornano, tornano le bici del sharing di Bike Me dopo lo stop per gli incidenti al Sellino, tra l'altro si legge l'incidente al Sellino e viene sempre in mente la scena di Fantozzi quando salta su per fare la sua biciclettata, la sua corsa e il Sellino gli si infila, vabbè, comunque ho quell'età lì, c'è poco da fare, comunque tornano le bici, il servizio era stato sospeso dopo due incidenti ai Sellini delle e-bike, tornano adesso quindi disponibili e l'assessore Censi dice tranquilli, gli abbonamenti prolungati di due mesi, quindi si sentiva anche un po' in colpa, molto probabilmente il comune per questa cosa e quindi da oggi tornano a viaggiare l'intera flotta di Bike Me dopo appunto i due incidenti. Dal 20 di febbraio era stato sospeso questo servizio, quindi semplicemente sette giorni di sospensione che portano però ad avere un due mesi in più di abbonamento gratuito. Beh, non male, ogni tanto sperate in qualche problema perché se vi allungano ogni volta per sette giorni di qualche bici in meno vi allungano in due mesi non è male. Il motivo dello stop risale a poco meno di un mese fa quando si sono verificati due incidenti denunciati sui social dalla giornalista di Aska News Alessandra Velluto perché dice che mentre stava pedalando in piazzale principessa Clotilde davanti all'ospedale fate bene fratelli però è già lì comodo improvvisamente il stilino della bicicletta a noleggio si era staccato e se l'era cavata con solo tanti lividi e contusioni e sempre di più mi viene in mente la scena di Fantozzi comunque qualche mese prima un altro incidente aveva visto sempre Velluto come protagonista quella volta il danno era stato riscontrato a una ruota ma sempre di una bicicletta bike me signora Velluto non mi viene da dire però pensi magari di trovare un altro mezzo no dai scusi 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 che sfiga posso dirlo che sfiga però che sfiga bike me che due volte con una giornalista che piglia le biciclette e gli succede qualcosa che sfiga Alessandra che ogni volta che prendi un bike me ti succede qualcosa veramente cerchiamo di far qualcosa non solo per le bike me ma anche per la sfortuna di Alessandra mi spiace davvero tanto comunque l'amministratore delegato dei IGP che è la società che ha gestito i bike me ha parlato di un terzo episodio sul sellino dello stesso modello a pedalata assistita ed ecco quindi perché poi è scattata la manutenzione straordinaria ai mezzi con dei controlli affidati pensate a niente poco di meno che gli ingegneri del Politecnico pensate guardate che posso dire adesso ridiamo scherziamo perché tutto è andato bene e perché ripeto ho in testa la scena di Fantozzi solo per quello però poteva succedere veramente un casino niente male già potevano esserci veramente danni grossi gente che si faceva veramente veramente male per fortuna sette giorni tutto è ritornato normale tutto è tornato tranquillo e così facendo riusciamo di nuovo ad avere l'intera flotta di bike me disponibile quindi al netto della sfortuna che la giornalista la collega Alessandra Velluto ha perché davvero ce ne vuole prendere due biciclette ma in realtà non è che adesso prendo in giro buonariamente la povera Alessandra Velluto ma in realtà quelle biciclette sono un po' malandrate ogni tanto quindi ci sta che se le usi tanto ti possa succedere qualcosa del genere comunque al netto di questo per fortuna adesso insomma tutte le bici dovrebbero essere di nuovo tornate tranquillamente in uso Willy Peiote la locura Willy Peiote sapete Willy Peiote è uno dei miei cantanti preferiti insieme a anche altre persone che hanno collaborato o girano intorno a questa trasmissione da anni diciamo dovremmo andare al concerto di Willy l'ha fatto due o tre non siamo riusciti mai a andarcene a uno perché ci dimentichiamo poi sempre di andare a comprare i biglietti pensa quanto siamo stupidi diciamo bellissimo poi dopo due giorni ci dimentichiamo completamente che il concerto c'è e regolarmente il giorno dopo diciamo hai visto su Instagram ieri c'era il concerto Milano di Willy Peiote vabbè prima o poi ce la faremo ad andare a un concerto di Willy Peiote stiamo per finire la prima ora adesso dopo di noi il giornale radio e poi torniamo qui sempre in diretta con un Good Morning Milano pieno di ospiti questa mattina parleremo di arte parleremo di mostre e parleremo non solo di quadri anche di fotografia questa mattina sì perché abbiamo anche un fotografo qui con noi ospite tutto questo in diretta qui su Crystal Radio vi ricordo Dad Plus FM 96.2 app di iOS Android sito internet e anche in diretta su Milano News e Good Morning Milano potete vederci e rivederci anche sul sito goodmorning.milano.it che funziona bene so che nei giorni scorsi c'era dei problemi c'era Chrome che dava degli errori funziona tutto i nostri grandi tecnici sono intervenuti direttamente sono andati a palo alto a parlare con gli ingegneri di Google e insieme hanno preso un pulmino sono andati a Houston a parlare con gli ingegneri della NASA che insieme hanno preso di nuovo un altro pulmino per andare da Elon Musk per capire come mai i satelliti non erano allineati e grazie a tutto questo finalmente il nostro sito è online goodmorning.milano.it abbiamo speso un po' in benzina ecco quel fogoncino fu ad andare avanti indietro a fare il costo costo però adesso finalmente potete rivedere tutto ah c'era anche su Spotify comunque se volevate You Make Me Feel Silvester alle 8 e 11 minuti questo era il Crystal History delle 8 bentornati qui su Crystal Radio con anche i nostri ospiti e diamo il benvenuto a Eva Amos buongiorno Eva buongiorno Fabio buongiorno a tutti allora Eva oggi non sei venuta da sola vieni qui a raccontarci un'ennesima mostra fatta da voi di Art Space ma hai portato un ospite presentacelo solo chi ci hai portato? allora ho portato oggi stamattina Alessandro Giugni che è uno dei partecipanti che è il fotografo esattamente che vi racconta adesso quello che ha fatto della sua cioè la sua arte la fotografia la storia giusto? e allora buongiorno Alessandro grazie di essere con noi un fotografo quindi è bello che anche la fotografia entra a far parte delle tue mostre Eva fotografo e la classica domanda fotografo dei che? cosa fotografi? è sempre questa la domanda non immagino quindi iniziamo con i fondamentali buongiorno Fabio buongiorno a tutti grazie Eva per l'invito e allora la domanda è centratissima è quello che mi fanno sempre tutti fotografo dei che? la mia specializzazione è un po' strana nel senso io faccio reportage che è un tipo di documentaristica che ormai un po' si è perso con la nascita dei social con la diffusione di Google degli stock di immagini diciamo che il concetto di reportage si è un po' perso perché tutti hanno il telefonino in mano e quindi c'è stato un fenomeno di democraticizzazione della fotografia e dell'immagine che ovviamente ha portato quello che una volta era tipo il touring club italiano che realizzava lavori e commissionava lavori importanti di reportage pensiamo a Berengo Gardin è il più importante reportagista del novecento italiano ha creato grandi lavori proprio partendo da questo ed era il reportage sociale oggi è un genere un po' a sé stante poi io faccio anche ritrattistica lavoro con alcuni personaggi abbastanza importanti però la specializzazione di base è il reportage il reportage il reportage sociale l'hai chiamato anche sociale dove non è solo far vedere la natura far vedere il paesaggio ma far vedere gli umani che vivono contestualizzare l'essere umano nel tempo in cui vive ecco capito metti da sotto come l'hai scritta nel catalogo allora cosa presentiamo oggi Milart il nome è abbastanza milanese mi viene in mente e forse appunto il tema è quello esattamente questa è la prima edizione della mostra Milart su Milano quindi ci sono tanti artisti anche Alessandro che presenteranno le opere incentrate sulla città di Milano incentrate su Milano non necessariamente però da artisti milanesi invece perché arrivano un po' da tutte le parti giusto? Certo sì abbiamo artisti tanti artisti internazionali che provengono da 14 paesi diversi quindi è bello anche questo concept vedere come come l'artista straniero internazionale vede la nostra città quindi interessante questa cosa bisogna capire se vivono anche loro un po' nello stereotipo di Milano città della moda Milano città che va veloce o se invece qualcuno coglie degli altri aspetti della nostra città tu Alessandro quali aspetti cogli nella nostra Milano? Allora direi due tipologie di aspetti di base il primo il fatto che essendo che non è la fotografia il mio unico lavoro quindi sono obbligato a correre tanto e concentrare l'agenda tra le 5 della mattina e le 10 di sera quindi ovviamente tendo a rallentare quando fotografo diciamo che io ho portato ho sottoposto a Eva una serie di fotografie che raccontano Milano più lenta e diciamo anche un po' più astratta un esempio su tutti la spirale che è una fotografia che ho realizzato all'interno del museo del novecento sono tutte fotografie premetto realizzate a pellicole le stampe sono tutte ai sali d'argento quindi un metodo anche di presentazione un po' d'antan e d'antan oddio è il modo in cui si dovrebbe fare la fotografia davvero finché non ce l'hai stampata non ti rendi conto di che cosa sia la fotografia realmente che è un'immagine diciamo astratta dal suo contesto si capisce che è il museo del novecento solo perché c'è un lato dove si legge edu che è la scritta che c'è in fondo del museo del novecento ma sfruttando la geometria della scalinata centrale e il fatto che in fondo ci sia una statua che punta il dito in una certa direzione si crea quella che potrebbe essere diciamo una sezione aurea anzi non è quella che potrebbe essere proprio la sezione aurea che è un concetto matematico che deriva dal fibonacci quindi riprende unisce il concetto di arte da un punto di vista geometrico e il concetto della base di inquadrantura della fotografica e di composizione fotografica beh insomma se mi tiri fa anche fibonacci io mi sciolgo davanti a una spiegazione del genere se vuoi ti spiego anche la sequenza di fibonacci da un punto di vista esoterico ma non credo ah cavolo possiamo andare così nel dettaglio lo teniamo per un'altra puntata magari quello ok oltre alla fotografia di Alessandro che cosa potremmo vedere cos'altro ci sarà altri fotografi ci saranno altri fotografi esatto e ci saranno anche le sculture e poi ci sarà ci sarà anche un capo di moda quindi un vestito visto che comunque parliamo della città non si può scappare da quello no no quindi c'è anche questo un po' di tutto beh poi a qualche giorno dalla chiusura anzi a un paio di giorni dalla chiusura della fashion week insomma ci sta che insomma briciole di moda che rimangono attaccate come sempre alla nostra città esattamente poi ci saranno tantissime opere pettoriche come non abbiamo detto dove sarà e quando sarà però allora non abbiamo detto diciamo subito dal primo al 10 marzo quindi con il primo marzo sarà la inaugurazione presso la galleria che si trova che si trova in centro di Milano a due passi dal Duomo e a due passi la due passi dal Duomo già detto e una delle traverse di via Torino ok e fino al 10 si sarà fino al 10 cosa succederà il primo all'inaugurazione ne parliamo fra pochissimo subito dopo The Weeknd adesso un po' di musica con The Weeknd Save Your Tears e poi torniamo qui con Alessandro Eva per parlare di Milart The Weeknd The Weeknd Save Your Tears mettere The Weeknd al martedì fa ridere comunque ve lo dico allora invece all'inizio del weekend venerdì è il primo marzo e potete andare al vernissage di Milart giusto? si esatto della mostra Milart che cosa vedremo? che cosa vedremo adesso vi racconto un po' del programma della serata quindi alle ore 17 inizia l'accoglienza ospiti ma inizia anche il live painting di Filippo Bragato un artista milanese che si è trasferito in campagna e poi alle ore 18 abbiamo la live music milanese dal cantautore milanese Paolo Minichini quindi non mancate questo pezzo che è importante visto che parliamo comunque di Milano si canta Milano esatto alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale svolta da me critico e giornalista culturale Emanuele Biluffi poi abbiamo non abbiamo ancora detto ma abbiamo una bella sorpresa abbiamo rappresentante del gruppo Oltre Pò Pavese che tutta la serata da bere a tutti esatto hai capito grande festa tu dovresti sentire quelli di Milano da scrocco perché secondo me ti portano un po' di gente lì a scroccare il vino è veramente interessante no comunque devo comunque parlare di questo gruppo di qui della cantina perché parliamo della Versa tu conosci bene conosco bene detto così sembra che bevo la Versa tutti i giorni però non è lo stesso no in realtà sono anche a Stemio esatto è uno scherzo mi spiace per come dire la Versa però naturalmente l'hai sentito parlare famosissima conosciutissima esatto quindi la serata di irreprensibile la cantina scherzo no la conosco davvero la conosco davvero quindi la serata di opening sarà accompagnata dall'aperitivo offerto dalla Versa altri ospiti altri ospiti aspettavamo te ma vediamo se riesci a incastrare i tuoi impegni adesso vediamo se riesco a venire ci proviamo ci proviamo no perché insomma sono sempre tanti gli ospiti che vengono poi alle tue serate alle tue aperture a questo Vernissage appunto che racconterà un po' cosa nei dieci giorni successivi si potrà vedere appunto all'interno della mostra Milart in scena appunto al Mike dall'1 al 10 e si ha usato appositamente in scena perché è davvero un grande spettacolo vado a immaginare mi ha detto 46 artisti più o meno da più o meno 17 paesi diversi nel mondo quindi insomma pensate davvero che è un altro che giochi senza frontiere cioè veramente è un melting pot di culture che però è una cosa molto interessante parlano della nostra città e quindi sarà interessante vedere appunto quale sarà l'occhio critico sia dei milanesi ci sono anche degli artisti milanesi giusto? assolutamente giocano in casa tu Alessandro sei uno di quelli quindi giochi in casa e vediamo come l'occhio critico di chi vive il posto mostrerà sulle pareti del Mike le sue opere e invece l'occhio di chi arriva da fuori magari c'è qualcuno che parla di Milano e neanche c'è mai magari è la prima volta che viene a Milano che ne sa magari però ha un'idea di Milano e l'ha espressa giusto non necessariamente devono essere tutti qua adesso noi ci fermiamo un attimino perché andiamo in pubblicità che è fondamentale se no qui domani ci staccano la corrente e quindi torniamo dopo un paio di canzoni qualche consiglio per gli acquisti e torniamo qui sempre a parlare con Alessandro Giugni e Evamos della mostra Milart dall'1 al 10 di marzo al Mike qui a Milano proprio a due passi dal Duomo in Supercentro Governo Punk Bunker 44 posso dire una cosa ai bunker nel senso sbravi quello che volete tutto 7 e 5 4 coreografie 4 le volete imparare a memoria o no invece di saltellare sul parco a caso di qua e di là scusate mi tiravano matto di Sanremo che saltellavano di qua e di là tra prendesi anche vestiti abbastanza bene mi piaceva quello stile che avevano ma è salta chi? salta della sta fermo un attimo Mucchela sta lì comunque scusate piccola parentesi scusa Eva ti ho rubato dei minuti allora parlavamo appunto di Milart con Alessandro Giugni e Eva Amos il primo di marzo la inaugurazione il vernissage della mostra ospite del vernissage sarà anche il nostro amico Simone Lunghi esatto che l'ho visto ieri che è venuto a trovarti a farla puntata sì sì siamo tornati anzi grazie Eva ti rubo un altro minuto da oggi ritrovate sul sito di goodmorning milano goodmorning.milano.it il nostro podcast speciale un podcast che parla di milanesi che è miei carissimi milanesi questa settimana ospite Simone Lunghi settimana prossima ragazzi ve lo dico cocchi punzoni quindi signori signori tenetevi forte perché settimana prossima puntatona e anche questa settimana e anche quelle dopo insomma abbiamo davvero già una decina di puntate pronte da farvi ascoltare che sono qualcosa di pazzesco e oltre ad ascoltarle potete anche vederle perché è un video podcast sia su Spotify che su YouTube che sul nostro sito scusami Eva torniamo a Simone Lunghi Simone Lunghi allora che cosa sarà lì a raccontarci questa volta? non può venire in canoa perché non c'è vicino no purtroppo è un po' devi parcheggiarla sui navili sulla darsene e poi camminare un po' prende il tram si attacca il tram con i roller nonostante il pavere sarà facile col monopattino non è uno è più da rollerblade lui è più da pattini è più da pattini e starà lì a raccontarci le sue esperienze cosa ti ha detto cosa ci racconti ha già detto qualcosa? allora innanzitutto non potevo non invitare Simone perché per me è un personaggio molto legato con la città di Milano un angelo dei navili giustamente navili è un posto magico a Milano e come sappiamo bene Simone salva i navili tirando fuori tutto quello che finisce dentro per sbaglio ma purtroppo non per sbaglio come le biciclette con le pubbliche diciamo che mettono in noleggio quindi un vero salvatore lo si chiama Simone quindi Simone parlerà della sua attività quello che fa e noi alla nostra volta i cataloghi che mettiamo mettiamo lì in vendita vanno diciamo cioè ricavato dalla vendita dei cataloghi vanno in beneficenza e appunto per l'associazione destinata all'associazione di Simone e Angeli del Bello ebbene sì perché insomma lui è così milanese che pensa non so dove ricordi lui ha impersonificato anche Sant'Ambrogio in canoa sul naviglio in sup sul naviglio vestito da Sant'Ambrogio ha impersonificato Leonardo da Vinci che rivedeva il sistema idrico della città di Milano insomma quindi sì effettivamente più milanese di lui non mi viene in mente nessuno l'hai mai incontrato Alessandro Tuo? so chi è ma di persona mai conosciuto allora ti do un compito da milanese devi fotografarlo devi fotografarlo devi fotografarlo perché secondo me è un ritratto della città se si presta volentieri poi io lo studio sui navigli in corso San Gottardo perfetto vedi come le cose quindi Simone mi raccomando se squilla il cellulare di Alessandro rispondi perché ti vorrà proporre un ottimo ritratto che serve chi sono gli altri milanesi che tu hai ritrattato in questi in questi anni in questi anni diciamo che ho fatto più o meno tutta la zona Navigli essendoci cresciuto perché mio nonno ha fondato una torrefazione storica che è quella che ha formato praticamente tutti i torrefatori del nord Italia e aveva la sede nel cortile di Corso San Gottardo al 15 che poi ho trasformato in uno spazio eventi più sala shooting e quant'altro più c'è il mio ufficio la mia sede legale e quindi io lì conosco praticamente vita, morte e miracoli sono 30 anni che frequento quindi ho fotograficamente fatto un piccolo lavoro che però ho tenuto solo per me su quelle che sono le piccole botteghe storiche che sono sopravvissute posto che ormai c'è un'invasione di piccoli bar di cinesi esatto sì ma soprattutto i marchi dei greci che aprono in continuazione se ne apre uno ogni 50 metri ormai non si capisce più chi mangerà il pita greco è bene cioè il nuovo kebab il nuovo kebab esatto bisognerebbe reinterpretare magari con gli archivi tipo del Corriere della Sera di Virgilio Carnisi o cose del genere bisognerebbe reinterpretare Milano e vedere le stesse zone come sono cambiate perché tipo Virgilio Carnisi che ha documentato Milano per 30 anni e ha documentato soprattutto la zona Navigli sarebbe interessante prendere le sue immagini con le stesse inquadrature e riproporle oggi e vedere come una volta che l'invasione fosse quella dei fruttivendoli pugliesi esatto c'era un po' quello diceva anche mio nonno è vero ogni ondata migratoria ha portato Milano un genere alimentare o un genere commerciale quello dei pugliesi che facevano i fruttivendoli è stato una delle prime ondate effettivamente insomma o volete mettere la frutta verdura da Puglia è buona piuttosto che il kebabaro direi ci sono dei kebabari che fanno grandi cose in questa città invece e che insomma portano grande gusto andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo ancora qui perché sono curioso appunto di sapere anche di più sull'autofotografia Alessandro e poi ricordiamo bene appunto come si fa le modalità anche per accedere al al vernissage e poi alle giorni successivi ricordiamo fino al 10 al Mike Milart prima edizione Milano vista dagli occhi di artisti milanesi ma anche da coloro che sono diciamo da altre parti del mondo e hanno voglia di raccontare la nostra città città che accoglie sempre tutti quanti e accoglie anche la grande musica Francesca Michelin che non è milanese ma che qua fa grande musica da tantissimi anni Francesca Michelin io non abito al mare grazie Francesca adesso ne prendiamo atto se gli basta ma non so se vivi ancora là o se vivi a Milano adesso credo che vivi a Milano anche lei milanese d'adozione stiamo parlando appunto di Milart tanti artisti 46 artisti 17 paesi diversi tante opere d'arte e tante modalità d'arte quindi fotografia scultura hai detto un pezzo di capo di moda anche dicevi giusto sì un capo di moda esatto poi c'è anche Roberto Sironi ti ricordi Roberto Sironi che in realtà nasce come musicista ma adesso si è scoperto l'artista e quindi lui presenta i suoi biglietti di ATM bellissimi ne ho qualcuno qua sono dei bellissimi pezzi con i disegni sopra quindi una è una cosa molto non so come definire più la più milanese di quella roba lì c'è poca roba perché effettivamente disegnare su dei biglietti dell'autobus del tram di Milano insomma devo dire che sono davvero qualcosa sarà un problema perché adesso li vogliono ritirare vogliono mettere tutto sulla tessera elettronica allora diventano veramente le opere storiche si troverà il modo di fare delle serigrafie sopra alle tessere in PVC Alessandro tu sei anche un fotografo appunto diciamo non fai solo il fotografo però quella è una buona parte della tua vita come ci sei arrivato appunto a questo tipo di fotografia il luogo mi sa che ti ha un po' condizionato sbaglio allora diciamo che è un percorso un po' travagliato nel senso che se non ci fosse stato mio nonno non ci avrebbe creduto nessuno non sarebbe mai partito mi ha comprato la prima macchina prima video fotocamera quelle della Canon piccolina con lo schermino che si apriva di lato un megapixel con i punti della ESSO quando perché avendo l'azienda appunto che vendeva caffè faceva tanti trasporti collezionava una marea di bollini è stato quello che ha creduto nel concetto di si deve viaggiare per fotografare e quant'altro poi diciamo un po' credo sia 50% bravura ma 50% anche fortuna e soprattutto capacità di relazionarsi umanamente perché quello che ti apre le porte poi è il rapporto umano se non instauri rapporti umani con altre persone non riesci poi puoi essere il più bravo del mondo ma non riesci ad emergere infatti a volte emergono persone che stilisticamente magari non sono granché però hanno un'ottima capacità di vendersi devi essere imprenditore di te stesso quindi diciamo che è stata una fortuna entrare in alcune mostre di Vittorio Sgarbi che è stata la base di partenza poi lì un po' di galleristi persone hanno cominciato a notare qualche conoscenza interna il lavoro che ha lanciato un po' tutto è stato il fatto che ho lavorato per l'Arcivescovo di Milano più volte ho realizzato prima un reportage su San Carlo che uno si chiede come fai a averlo fatto visto che è morto 400 anni fa non sull'ospedale San Carlo San Carlo Borromeo quindi un reportage architetturale quindi ho potuto accedere a una serie di luoghi diciamo abbastanza inesplorati poi da lì è nato vabbè ho fatto un lavoro sulla requisizione delle reliquie borromeiche tutti i lavori pubblicati di cui ho fatto anche l'inaugurazione delle mostre e quant'altro e poi quello mi ha dato l'idea quello è studi di un certo tipo mi hanno dato l'idea per fare il lavoro che è appena uscito che è un lavoro sull'esoterismo della chiesa cattolica dormendo per un anno in monasteri di clausura con dispensa arcivescovile e romana un lavoro che non è soprattutto perché in questo paese c'è una forte reticenza da questo punto di vista quindi quando associ il concetto di esoterismo e chiesa cattolica ti guardano male invece sono molto più aperti i monasteri a questo tipo di ragionamento un lavoro che poi è sotto legida di arcivescovi e una serie di altri prelati romani faccio spesso questa domanda a chi appunto opera nella città di Milano quali sono i luoghi o se c'è un luogo o i luoghi del cuore di Alessandro Giugni nella città di Milano direi due in particolare vabbè il primo è il corso di Porta Ticinese sarà perché poi uno appunto ci cresce sarà perché ti amo diceva qualcuno sarà perché ti amo esatto o come direbbe Walter Valdi un milanese a Milano oggi io quando sono lì mi sono l'unico italiano ormai sopravvissuto in quella zona è sempre una zona ricca esatto e poi secondo me un luogo non luogo che non è fisicamente rappresentabile neanche fotograficamente è il dialetto perché quando sento qualcuno e questo non è un posto fisicamente attribuibile è individuabile ma quando senti qualcuno in piccole botteghe negozi cioè c'è tutta una realtà storica non so penso in via Dogana dove ci sono alcuni negozi che sono lì da 50 anni botteghe storiche eccetera quelle sono realtà dove i proprietari magari hanno 60 70 80 anni sopravvivono nonostante le mille beghe comunali li permessi un mondo sempre più complicato e parlano ancora il dialetto che è una cosa che stupisce in una zona così turistica dove dovresti essere solo un dialogatore inglese e invece utilizzi quindi essere international come va di modo a dire parlano ancora il dialetto di Milano che poi è una peculiarità molto milanese quella di aver perso il dialetto in tutte le altre città d'Italia in realtà rimane e anzi viene preso anche da chi ci va nel senso che poi tu hai basta pensare al napoletano in questo momento come è diventato anche una lingua per la musica italiana che utilizza quel tipo di linguaggio ma tantissimi soprattutto a Roma ma chiunque di noi sfida andare a Roma molto probabilmente nel giro di sei mesi un anno anche noi cominciamo a parlare romano cioè nel senso o almeno se non proprio in dialetto con comunque una forte calenza e con l'utilizzo di molte parole del luogo Milano questa cosa un po' l'ha persa è un peccato l'ha persa nelle nuove generazioni nelle generazioni di chi arriva in città forse perché effettivamente siamo sempre stati così international così proiettati verso il futuro e quando creiamo qualcosa in questa città poi lo distruggiamo in un attimo per creare qualcosa altro di nuovo e quindi insomma è un po' peccato perché le tradizioni sono importanti e sono fondamentali per capire poi anche come fare meglio il proprio futuro e quindi insomma Milano è una grande città anche per quello Milano è una città attrattiva dicono tutti cosa ne pensi di questa attrattività della nostra città è vero o è una fandonia che ci racconta qualcuno devo dire quello che penso sì sì puoi dire quello che pensi perché io credo che sia una mezza verità vi dico la verità quello che penso credo che sia vero fino a un certo punto cioè se lo vedi dall'esterno è tutto bellissimo quando lo vedi dall'interno ti accorgi che c'è una serie di situazioni che non hanno non hanno ragione di esistere perché hanno snaturato la città cioè questo però è un problema di tutta l'Italia credo noi vogliamo abbiamo una dimensione tale per cui vorremmo essere internazionali ma non abbiamo né le strutture né le infrastrutture neanche la mentalità basta vedere le aziende cioè le aziende sono ancora la maggior parte le PMI funzionano ancora questa è l'altra parte della mia vita sono a conduzione familiare unipersonale dove magari il titolare parla appunto in dialetto però vende ai russi o vende ai turchi e quindi ovviamente quando devi parlare con qualcuno da fuori quello come fa? diventa complicato diventa complicato e magari non parla invece con suo figlio che dovrà fare l'azienda poi c'è anche questo il problema il riscontro generazionale nelle aziende soprattutto nelle PMI sappiamo quanto è importante sappiamo quanto anzi ci sono associazioni di categorie come Assolombarda ConfCommerce che fanno proprio dei corsi per il passaggio generazionale intorno alle aziende pensa a te siamo quasi in una chiusura Eva daccelo quindi l'appello finale per venire a Milart allora vi aspettiamo numerosissimi il primo marzo all'opening della mostra Milart la mostra dedicata a Milano dove vi presentiamo 46 artisti internazionali e poi ci saranno altre bellissime cose ma devo ricordarvi naturalmente anche indirizzo la galleria si chiama Maek e si trova in via Santa Maria Valle 2 una delle attraverse di via Torino proprio a due passi dall'ombra della Madonnina come si dice in questi casi esattamente e allora Eva grazie mille noi ci vediamo quindi il primo il venerdì primo marzo dalle 17.30 dalle 17.30 si aprono le porte e poi una serata in compagnia dei tuoi ospiti i tuoi artisti delle opere che ci saranno esposte durante questa prima edizione di Milart ci sono opere tue? Eva? no non ci sono opere tue sembra che Eva è anche un artista quindi vuole capire suonerai qualcosa? no io ho portato Milanesità ah ok loro ci pensano loro tu hai portato il vino con gli amici dell'Oltre Papavese quindi ci pensano loro niente però vi dico seguitela a Evamos sui social perché ci sono anche le sue operate si possono trovare in giro ci sono sui social sono molto molto interessanti dategli un'occhiata grazie Alessandro grazie per essere qui con noi grazie a voi complimenti per il lavoro che fai e mi raccomando continua a fotografare la nostra città che insomma ne ha bisogno di essere testimoniata con gli occhi di chi la guarda anche in maniera critica a volte ma soprattutto comunque con quegli occhi critici di chi è innamorato di una città grazie mille Alessandro grazie ancora a Eva noi ci risentiamo fra pochissimo per i saluti finali per gli appuntamenti della giornata per ricordarvi anche che insomma Cristal Radio è dopo di noi e va avanti perché noi fra poco chiudiamo ma Cristal Radio continua sono le 8.50 martedì 27 febbraio questo è Cristal Radio io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano e ora quello che arriva è D'Argent Amico con Onda Alta 8.55 minuti di oggi martedì 27 febbraio e anche questa puntata di Good Morning Milano volge al termine grazie a tutti di averci ascoltato dopo di noi il bravissimo e preparatissimo Ambrogio Curti con Senti Questa la grande musica nazionale e internazionale raccontata dagli aneddoti e dalle storie che Ambrogio va a scovare tra le righe di dischi anzi tra i solchi dei vinili lui le trova e le racconta qui alle 9.05 dopo il giornale radio su Cristal Radio e voi se volete riascoltare qualche intervista rivedere qualche ospite rivedere qualche puntata intera beh c'è il nostro sito goodmorning.milano.it fuori piove ancora sì piove ancora vero Viola sta piovendo ancora fuori sì sta piovendo sta piovendo sta piovendo sta piovendo sta piovendo piove o no fuori sì piove vi dice sì quindi in realtà oggi hanno rimesso le Bike Me però le userà meno per meno gente quindi attenzione ai sellini comunque non fate la fine di fantozzi le voci che avete sentito oggi sono state quelle di Eva Amos Alessandro Giugni e tutti i nostri ospiti e anche quella qui che come sempre vi porta con il timone in giro nel grande maremoto di questa città io Fabio Ranfi che vi saluto vi do appuntamento a domani ciao 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 ciao